Buongiorno a tutti, sono Luca Truccolo, ho 23 anni e sono diplomato in pianoforte presso il Conservatorio Giuseppe Vedi di Milano e parteciperò anch'io a questa edizione di Piano City promossa dal Comune di Milano. Nello specifico suonerò presso il Cubet gestito dalla X Fabrica delle Bambole e suonerò nello specifico i 12 studi opera 8 di Scriabin, la quarta sonata opera 30 di Scriabin e infine terminerò con Ber la Flamme, opera 72, sempre di Scriabin. A seguire ci sarà una mostra espositiva. Vi lascio suonandovi il primo studio opera 8 di Scriabin. Buon ascolto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.